Barcellona Porto, 2 a 1, il Barca, perché si chiama anche Barca, così viene chiamata vince, il Barca vince contro il Porto, 2 a 1, 2 gol contro uno del Porto, il Porto perde si sapeva, il Barcellona è molto forte segna Joao Cancelo nel primo tempo e Joao Felix nel secondo il Porto fa un solo gol nel primo tempo a firma di Pepe che la mette dentro le statistiche sono tutte a favore del Barca e del Barcellona rispetto al Porto più possesso di pane, più passaggi e una precisione dei passaggi lievemente maggiore rispetto al Porto beh, complimenti al Barca e al Barcellona